Dino Ambrosino, oggi è il giorno della presentazione delle liste. Dino, un percorso che vorrei tu ci descrivessi. Come sei arrivata a questa formazione? È stato un gran lavoro, faticoso anche perché abbiamo cercato di parlare con tante persone. Noi abbiamo cercato di allargare il gruppo della procida che vorrei perché poi alla fine siamo riusciti a candidare più persone che sono esterne al Consiglio Comunale, all'amministrazione, di quanto non siano quelle interne. Quindi abbiamo cercato di metterci in discussione, di acquisire nuovi protagonisti. In un qualche modo penso che siamo ancora più rappresentativi della comunità. Devo ringraziare le tante persone che abbiamo contattato nelle ultime settimane, le tante persone che per esigenze loro personali non hanno poi aderito con la candidatura ma hanno dato grande sostegno al nostro progetto. Così come devo ringraziare le persone che erano disponibili a essere candidate ma alla fine hanno fatto un sacrificio personale per poter privilegiare il gioco di squadra. Quindi sono molto contento perché il nostro è un collettivo importante sia con l'esperienza di chi già ha amministrato sia con queste belle persone nuove che hanno dato la loro adesione al progetto della procida che vorrei. Avete scelto appunto di rimanere con il nome di cinque anni fa. Ha un significato questa scelta oppure semplicemente un andare? La procida che vorrei alla fine è una realtà che noi cerchiamo sempre di migliorare quindi ci c'è e ci sarà sempre una procida migliore che noi vorremmo. Quindi abbiamo inteso di confermare quel simbolo anche perché era frutto del lavoro a cui comunque noi ci ispiriamo. All'epoca facemmo un grande percorso di partecipazione e anche l'individuazione del simbolo fu frutto comunque di una serie di approfondimenti, di condivisioni. Insomma la procida che vorrei l'abbiamo voluto conservare proprio per sottolineare il rapporto di continuità e di rinnovamento. Quindi l'altra volta era una metà del cuore, adesso ci abbiamo messo l'altra metà del cuore. Fermo restando che a comporlo tutto ci deve essere sempre poi la disponibilità dei procidani.